amici della grande pesca bentornati questa ventosa giornata di ottobre uscita spinning offshore con difficoltà a trovare i gabbiani da insidiare pesci da insidiare sotto gabbiani siamo siamo ridossati siamo fiduciosi nel tentativo di prendere qualche occhiata qualche sugarello qua vicino sotto costa come sentite è una giornata molto ventosa nella speranza che poi questo vento vada a calmare di poter uscire più a largo per insidiare qualche bel tonno e che ha preso un tonno di un 10 litri no grande bella bella fidacci la sono sopportato ah si 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 è sforziata ma ci sono e poi controvento così tiene anche di più la ritraverso una occhiatina no no Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, è sciolto in canna, ci sta a divertir come matti. Penso sia una delle cose più divertenti al mondo, sta pesca qui. Che spettacolo. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. la picca, tonda la picca guarda come sangue dagli la frizione bellissimo che fai? manacca vai dagli eh la volevi mettere alla prova la canna eh sì, è uno spettacolo questa canna questa canna è uno spettacolo dai ringraziamento allo sponsor fantastico fantastico bel pesce un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche chi non ama molto la pesca potrebbe capire il divertimento che stiamo provando bellissimo, alletteratone, tombarello chi ha fatto per la coda? è tombarellone andi a poi io, vai si casca con la coda bello, no no no, non mi casca bello aspetta eh aspetta aspetta non lo vedo però non lo vedo però bellissimo pesce bellissimo alletterato e dai bellissimo pesce non lo vedo non lo vedo non lo vedo non lo vedo nooo ciao benissimo vabbè grazie Non c'è il cuore, non c'è il cuore Non c'è il cuore Non c'è il cuore Bellissime catture Allora stiamo ripartendo Vieni ti Mangiarsi In ogni dove Bè pesce il canna Grande Federico Sto giro senza mangiare Questo non è all'amato di traverso Ti ho detto che bollavano Alletterato Tappiamo a mano Seconda parte dell'uscita Cerchiamo delle nuove Mangianze dopo il divertimento Di stamattina Siamo veramente divertiti Il mare si è placato Forse è un po' tondo fuori Ma rispetto a stamattina Tutto perfetto Giornata di sole radiosa Adesso Ci dediciamo soltanto al Big Game Ovviamente I pescetti li abbiamo già presi Adesso ci dediciamo Al Big Game Al Big Fish Belli 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 Quella è Strikers Belli Eccolo Eccolo Bello Vai Altro pesce in canna finalmente Bello E' pesciotto sembra A presto Che spettacolo Eccolo Eccolo B Bella lettera andiamo sulla mancianza forza si da dai torni vai Buon appetito! Questo era venimo da giro, aspetta gli straordinari, eh? Un po' detto! Vistia! Ma non matto! E' il pesce! Eccolo! Che si parte! Bello! Che fuga! Uuuuh! Bodonna! Che d'oro! Che d'oro! Da lì si sono trovata che tirassi di quel! Che c'è a tutti che c'è il bello! Eccolo! Ah! Eccolo! 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 C'è! Poi! Altro pesciotto in canna, altro pesce, oggi davvero siamo divertiti da matti oggi, a parte le onde avevamo preso delle legnate, con l'onde di un metro e mezzo stamattina, due metri forse ce l'ha mangiato a mezz'acqua andremo sotto la vacca, questi toni sono terribili sembrava un pesce di un pezzi, guarda che giusto che sia il più grosso della giornata eeeh ma in base è puntato qui a mezz'acqua non ne vuole sapere comincia a vedere quel pesce pensa che l'ho preso fuori eeeh eeeh bel pesce bellissima letterata eeeh tra tonnetti alletterati una bellissima palamita le chiocchi assurdi le onde stamattina erano un metro e mezzo, due ora si è un po' calmato ma insomma si veramente la giornata impiegativa dal punto di vista fisico però ne è avvalza la pena siamo divertiti veramente la Saint Croix e il Rarenium eeeh hanno avuto un bel po' di lavoro oggi e anche la mia Blue Romance con lo Sferos la canna della Lecce si hanno lavorato l'attrezzatore oggi speriamo che il video vi sia piaciuto eeeh vi rimandiamo ai prossimi video del canale Trauto90 eeeh grazie grazie